Quella di ieri è stata una giornata cruciale per la continuità produttiva e occupazionale della filiera vicola boianese. In mattinata il direttore generale della regione, Antonio Frangioni, aveva messo intorno al tavolo i vertici della FIMOLISE di Sviluppo Italia e i tecnici dei diversi assessorati interessati per accelerare i tempi dell'affitto del ramo di azienda alla GAM e per la liquidazione coatta di Solagrital. Nelle stesse ore il neocommissario liquidatore Danilo Tacchilei ha incontrato tutti i lavoratori di Solagrital per spiegare l'intero percorso e le azioni strategiche messe in campo per salvaguardare la continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento. A seguire i rappresentanti sindacali e le RSU hanno incontrato i vertici della GAM i quali hanno confermato il fitto del ramo di azienda previa liquidazione coatta di Solagrital. Gli attuali dipendenti saranno licenziati dalla vecchia azienda e riassunti ex novo dalla GAM in rapporto alla quantità di produzione richiesta dal mercato. Eventuali esuberi verrebbero riassorbiti nei mesi successivi. La liquidazione coatta di Solagrital consente tra l'altro di erogare il trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti attraverso la garanzia dell'IMPS. Restano da stabilire invece le condizioni salariali per gli assunti alla GAM. La stessa GAM infine ha garantito il pagamento delle mensilità redrate maturate dai lavoratori entro i prossimi giorni. A termine dei diversi incontri i sindacati hanno annunciato la sospensione dello sciopero già programmato per oggi.